Alcune scoperte sono oscurate da enormi punti interrogativi. Secondo questo, gli archeologi hanno già recuperato alcuni antichi manufatti che semplicemente non vogliono adattarsi al loro tempo. Ma come è possibile? In che modo i popoli antichi sono riusciti a produrre oggetti così sorprendenti senza possedere tecnologie moderni e strumenti high-tech? I nostri antenati alla fine erano molto più avanzati di quanto osiamo sognare? Sei pronto a unirti a noi in un emozionante viaggio nel passato? Allora rimani sintonizzato e assicurati di guardare il nostro video fino alla fine. Ma prima di iniziare, avete mai sentito parlare di un ritrovamento archeologico che era generazioni avanti rispetto al suo tempo? Sentiti libero di lasciarci un like e di abbonarti e raccontacelo qui sotto nei commenti. I commenti particolarmente interessanti avranno un cuore e saranno appuntati in cima. Sismografo antico È l'anno 138 d.C. quando a Lou Yang una piccola palla cade dalla bocca di un drago di bronzo nelle fauci aperte di una rana. Quella che sembra una banalità insignificante a prima vista in realtà ha confermato l'ineguagliabile raffinatezza del poliedrico cinese Zhang Eng. Il suo sismografo aveva appena registrato un terremoto a più di 640 km di distanza e questo, anche se nessuna delle persone presenti aveva sentito nemmeno un minimo tremore. La costruzione, che tra l'altro fu sviluppata circa 1700 anni prima dei primi sismografi del mondo occidentale, consisteva nel nucleo di un vaso di bronzo sensibile al movimento. Posizionate su di esso c'erano a loro volta otto teste di drago rivolte verso l'esterno, ognuna delle quali teneva una sfera di rame in bocca e puntava in direzioni diverse. Sotto i draghi si accovacciavano le suddette rane. Anche il minimo tremore sismico era sufficiente per attivare il pendolo nascosto all'interno del vaso e liberare le sfere dai loro detentori. Per scoprire da quale direzione aveva avuto origine il terremoto, si doveva solo guardare in quale bocca di rana era atterrata la sfera. Sfortunatamente, l'invenzione originale di Zhang Eng non è sopravvissuta oggi. Gli esemplari esposti nei musei sono repliche. In effetti ci sarebbe evoluto fino al 2005 prima che un team di ricercatori cinesi riuscisse per la prima volta a realizzare un modello funzionante dell'antico capolavoro. Reattore nucleare della preistoria Chicago Pile 1 è considerato il primo reattore nucleare artificiale funzionante nella storia. Costruito nel 1942, il primo reattore sperimentale faceva parte del progetto Manhattan, che notoriamente portò all'invenzione e alla costruzione della bomba atomica. Ma se vi dicessimo che nel 1972 gli scienziati si sono imbattuti in un reattore nucleare che è stato creato molto prima? E siamo chiari, non stiamo parlando di un periodo di qualche decennio qui, ma di ben 2 miliardi di anni. Scoperti nella miniera di uranio-oclo in Gabon, i resti del reattore nucleare continuano ad affascinare gli esperti fino ad oggi. In considerazione del fatto che 2 miliardi di anni fa non c'era traccia di Homo sapiens, la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che deve inevitabilmente essere stata un'entità naturale. Fondamentalmente questa misteriosa struttura è composta dai seguenti componenti. Un tappo di uranio relativamente puro con un'alta concentrazione dell'isotopo radioattivo U-235 e composti organici, come la grafite o l'acqua, che rallentano i neutroni prodotti dall'uranio. Oggi un tale reattore non potrebbe essere formato. L'uranio-235 è semplicemente diventato troppo raro per fare questo. Tuttavia 2 miliardi di anni fa l'isotopo costituiva ancora il 3% circa dell'approvvigionamento naturale di uranio, la concentrazione necessaria per la fissione in un reattore. Tuttavia questa scoperta è arrivata così inaspettatamente che è stata presto fatta un'ampia verità su ipotesi e sul vero retroscena a riguardo. Dai reattori di prova extraterrestri al lavoro di una specie sconosciuta preumana non c'erano praticamente limiti alle teorie corrispondenti. Queste ipotesi sono state infine alimentate da una strana scoperta che il fisico Alex Meschik e i suoi colleghi della Washington University hanno registrato mentre esaminavano il reattore. In particolare gli scienziati si sono imbattuti in uno strano modello di isotopi di xeno, con questi sottoprodotti della fissione dell'uranio intrappolati nei minerali di alluminio fosfato intorno al reattore. I ricercatori hanno notato che gli isotopi dello xeno erano sorprendentemente scarsi negli intermedi di breve durata, o in altre parole che sembrava che il reattore fosse stato regolarmente acceso e spento. Piatto di vetro di Bet-Sharim Uno dei siti archeologici più significativi di Israele, le grotte di Bet-Sharim, sono state iscritte nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO il 5 luglio 2015. Al centro di questo c'è la grande necropoli, che è stata creata dal II al IV secolo e conta un totale di 33 siti di sepoltura. Nel 1956 i funzionari decisero di convertire una grotta naturale accanto alle catacombe in un piccolo museo, ma quando i bulldozer hanno iniziato a rimuovere le macerie e a spianare la strada, improvvisamente si è trovato in una posizione molto scomoda. Si erano imbattuti in qualcosa di così grande e massiccio che non potevano andare avanti. Poco dopo era chiaro che si trattava di una lastra pesante e rettangolare, che inizialmente sembrava cemento. A causa delle sue dimensioni ingombranti, è stato lasciato al suo posto ed è stato deciso senza ulteriori dubbi di pavimentare l'aria circostante con pietre piatte. Misurando 2x3,3 metri e 45 centimetri di spessore, la lastra era tutt'altro che delicata. Eppure ci sarebbe voluto fino al 1963, prima che la massiccia struttura tornasse ancora una volta al centro dell'attenzione scientifica. Nei ranghi di una spedizione congiunta del Corning Museum of Glass e dell'Università del Missouri, è sorta la congettura non del tutto seria che la piastra Beth Sherim potesse essere fatta di vetro, e ciò che inizialmente è stato accolto con grande scetticismo doveva in realtà essere confermato nel corso di un'analisi chimica. Da qui in avanti, la reliquia doveva essere esaminata in modo completo. Un esame dei resti di ceramica trovata lì ha mostrato che la lastra di vetro risale probabilmente alla fine del IV secolo. Quindi, chiunque abbia fatto il vetro 1600 anni fa lo ha fatto per non creare un artefatto delicato, ma un materiale massiccio che potesse resistere anche ai bulldozer moderni. Con un peso di 9 tonnellate, la piastra è avanzata fino a diventare il terzo più grande pezzo di vetro artificiale di tutti i tempi, nel momento in cui è stata scoperta, superato solo dai giganteschi specchi del telescopio del XX secolo. Si stima che 11 tonnellate di materia prima abbiano dovuto essere riscaldate a 1100 gradi Celsius e mantenute a quella temperatura per un massimo di 10 giorni per riuscire a produrla. Forse questo processo ha divorato tonnellate di legno come combustibile. La grotta in cui si è svolto il lavoro deve essere stata simile a un inferno ardente. Gli scavi hanno dimostrato che il vetro poggia ancora su un letto di blocchi di calcare. Le forte tracce di combustione mostrano che anche le camere di combustione si trovavano lì. Ma com'è che la lastra di vetro non è affatto trasparente? Bene, è principalmente perché l'oggetto contiene circa il doppio dell'ossido di calcio rispetto alle sue controparti contemporanee. Nel dettaglio, la conclusione è che la piastra Bet-Sharim era effettivamente destinata ad essere elaborata. Da esso, da 50 a 60.000 singoli vasi di vetro avrebbero potuto essere soffiati per costruirla. Tuttavia, non è noto perché la piastra grezza non sia mai stata utilizzata per il suo scopo originale. Colonna di ferro Ti chiedi perché una normale colonna di ferro si presenta in un posto sui manufatti più inspiegabili del passato? Bene, questo diventa chiaro una volta che ci rendiamo conto in quali condizioni eccezionali l'oggetto è stato trovato dopo tutto questo tempo. Come uno dei più antichi monumenti in ferro conservati di sempre, il pilastro ha adornato il cortile della moschea Wat Uli-Islam, nel sud di Delhi, per circa mille anni. La sua storia attuale, tuttavia, risale ancora oltre. Secondo questo, la colonna fu probabilmente fatta per furia del sovrano Chandragupta II, che era al potere tra gli anni 375 e 414. Un'iscrizione indica che l'oggetto è stato eretto in onore della divinità hindu Vishnu, ma la gentilezza e il coraggio del re non sono stati menzionati. Gli esperti sono ancora sconcertati su ciò che riguarda la sorprendente mancanza di ruggine del pilastro di ferro. Alcuni scienziati hanno concluso che il monumento ha una specie di strato protettivo. Questa struttura reticolare continuerebbe a crescere in modo indipendente da tempo immemorabile e proteggerebbe la struttura dalla corrosione. Un altro tentativo di spiegazione si basa sullo speciale metodo di fabbricazione di quel tempo. L'uso di carbone può aver portato ad un alto contenuto di fosforo. Inoltre è concepibile che il segreto delle colonne prive di ruggine risieda nello spessore speciale del rivestimento. Questo permette alla luce solare incidente del giorno di essere immagazzinata in modo tale che la pioggia e la ruggiada all'esterno evaporino di nuovo immediatamente. Purtroppo, tuttavia, la superstizione umana è a volte più forte delle proprietà antiruggine. Secondo ciò, si dice che porti fortuna stare con la schiena davanti alla colonna di ferro, stringendola con le mani. Tuttavia, poiché questa pratica ha lasciato innumerevoli sbavature e danni, la struttura è stata protetta da abbracci inopportuni da una recinzione nel 1997. Quindi ragazzi, ora siamo curiosi di sapere la vostra opinione. Quali dei manufatti presenti vi hanno stupito di più? E come pensate che si possa spiegare il retroscena di queste entusiasmanti scoperte? Sentiti libero di darci da fare e scriverci i tuoi pensieri, suggerimenti e feedback sul video di oggi nei commenti qui sotto. E già che ci sei, ricordati di lasciarci un like e abbonati per rimanere aggiornato d'ora in avanti. Infine, sentiti libero di dare un'occhiata agli altri entusiasmanti post sul nostro canale, che abbiamo collegato qui per te nei titoli di coda. Con questo, grazie per averci guardato, abbi cura di te e ci vediamo la prossima volta.